Pago volentieri due euro per un caffè e perché il caffè è un piacere se non è buono mi girano i coglioni ci troviamo ad asso in pieno centro storico qui alla antica pasticceria pedrabissi sono in compagnia del titolare giuseppe pedrabissi e con me anche il titolare di multi service srl claudio brivio per gli amici claudio bisio no ma questa è una battuta e ci troviamo qui per ricordarvi un appuntamento molto importante fissato per sabato 22 febbraio sabato 22 febbraio a partire dalle ore 20 qui all'antica pasticceria pedrabissi di asso una serata che vedrà un'altra grande protagonista sempre qui ad asso ovvero radio asso radio asso che potete ascoltare in streaming attraverso anche tutti i sistemi smartphone cellulari sistemi android in internet ovviamente a partire da un sito che è www radio asso punto it e sabato 22 febbraio ci sarà una serata assolutamente prestigiosa con ospiti speciali e ovviamente grande protagonista la grande musica 70 80 rigorosamente 70 80 di radio asso e tutti gli amici che già la conoscono e tutti quelli assolutamente che vorranno aggiungersi per poter non solo conoscere questa emittente e tutto il suo staff ovviamente che sarà qui radunato ma anche ospiti speciali assolutamente sì e facciamo un nome un nome importante direttamente dal mondo della comicità nazionale televisiva ci sarà niente meno che giorgio verducci ma signor verducci su dai ma glielo appena spiegato se viene con la richiesta del suo medico curante l'appuntamento per gli esami lo possiamo fissare tra sei mesi se viene a pagamento domani mattina e se vengo con la mazza prego si accomodi salve mi dà per cortesia due panini ecco lei 10 euro no ma dicevo due panini due panini 10 euro ma scusi ma da lei due panini costano 10 euro senta bello non ho voglia di discutere da me due panini costano 10 euro se le va bene così se no grazie arrivederci è proprio vero che certe volte chi ha il pane non ha i denti sicuramente noto come il padre donovan di zelig che ha visto il suo esordio e debutto televisivo ma il suo successo è continuato poi su colorado un'altra trasmissione televisiva molto importante in questo panorama e lì giorgio verducci ha trovato un altro personaggio diciamo munito di un utensile che è abbastanza insomma significativo e qui poi lasciamo anche un po' di spazio insomma alla sorpresa alla curiosità per poter dare a tutti la possibilità di raggiungerci qui sabato 22 febbraio qui all'antica pasticceria Pedrabissi nel pieno centro storico ad Asso insieme anche ai promotori di questa serata le ricordiamo ancora Multiservice SRL e il titolare e tutto lo staff qui dell'antica pasticceria Pedrabissi e ovviamente lo staff di Radio Asso e grande ospite Giorgio Verducci Salve mi dà un etto di crudo per cortesia solo un etto me ne serve un etto vabbè ha detto un etto un etto ops mi scusi sono treetti mi è scappata la mano ops mi scusi sono tre costole mi è scappata la mazza L'entrata è libera, quindi assolutamente appuntamento da non perdere e noi con questo invito ne approfittiamo, ne approfittiamo assolutamente per un brindisi, un brindisi a questa serata, a Radio Asso e a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo importante appuntamento. A partire dalle 20, sabato 22 febbraio, antica pasticceria Pedrabissi, la serata di Radio Asso, la grande musica 70-80, ospite speciale, Giorgio Verducci. Dai, sentiamo un po' dove l'avrebbe persa questa patente. E se lo sapessi non sarei qui, no? Vabbè, cominciamo allora la lunga procedura per richiedere il duplicato della sua patente. Ce le ha sette fototessere in bianco e nero e sette fototessere a colori, formato 2748 per 1,512. Le ho. Bene. E ce l'ha la denuncia ai carabinieri, alla polizia stradale, alla polizia postale, alla polizia di frontiera, ai vigili urbani, ai vigili del fuoco, ai lagunari, ai paracadutisti, al mattaglione San Marco, ai talebani, ai salesiani, ai monaci trappisti, alle sorelle del sacro cuore di zona. Ce l'ho. Bene, bene. E ce l'ha il versamento da 15,473 euro, che si può fare soltanto alla posta di Corso Garibaldi, che apre solo dalle 7 alle 7.20, dei primi lunedì pari, dei mesi dispari, degli anni bisestili. Cazzo, ce l'ho! Ce l'ho. Cominciamo la procedura per richiedere il duplicato della sua patente, fotocopia della vecchia patente. Non ce l'ho. Ah! Non ce l'ha! Vengono qui la prima volta, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Io ne ho due di fotocopia della vecchia patente. Avete sentito, colleghi, non ha la fotocopia della vecchia patente? Chissà tra quanto tempo potrà ricominciare a guidare. E chissà tra quanto tempo potrà ricominciare a camminare. Ho preso un giorno di ferie e dopo tutto il giorno che lo aspettavo alle 7.00 di sera è arrivato l'antennista. È salito sul tetto, ha cominciato a lavorare e canticchiava. Penso che un giorno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di... Dopo 5 minuti mi chiama. Signor Verducci, salga, ho finito. Ma come 5 minuti ha già finito? Sì! Quanto le devo? 350 euro. Ah 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 ah! Volare! Oh 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 oh! 750 euro. È τι? 5 minuti. È un quarto, mi piace. 7 minuti. E Fra... Sì! Trega.